Buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Questo mercoledì 26 giugno, siamo in piena estate anche dal punto di vista delle temperature, ma quello che ci interessa adesso è andare a leggere in questa prima parte le prime pagine dei quotidiani regionali e non solo, anche quelli nazionali e quelli sportivi. Poi nella seconda parte li sfoglieremo, i giornali di casa nostra che trovate già in edicola con l'ausilio anche dei servizi della nostra redazione. Allora partiamo con le prime pagine dei giornali abruzzesi, partiamo con le quattro edizioni del quotidiano Il Centro. Questa è l'edizione di Pescara che apre con la cronaca, minorenne in fuga con l'auto rubata Pescara e quattro a folle velocità sull'asse inseguiti e arrestati dalla polizia. Centro pagina la foto che riguarda la Camera di Commercio di Chieti Pescara, elezione alla Camera di Commercio, Strever presidente e ora al lavoro per le imprese ai dipendenti camerali. Voglio dimostrare apertura e serenità a patto che dimostrino efficienza e rispetto. Queste le prime parole, peraltro poi nella seconda parte le ascolteremo nel nostro servizio. Nelle cronache siamo ovviamente a Pescara, nuova giunta tra Masce e Lega, l'accordo è lontano, nuovo vertice ieri sera per trovare un accordo, ma le posizioni per ora restano distanti. Sempre a Pescara, tabaccaia ferita e rapinata da due banditi. Ci spostiamo di qualche chilometro, andiamo a Montesilvano che piange l'ex sindaco Fuschi che fu eletto due volte. Sotto la fotonotizia, il bombarolo scappa dalla casa di cura. Ricorderete qualche anno fa Roberto Di Santo che nel 2013 seminò il panico fra Chieti e Pescara con roghi ed esplosioni. Ebbene, adesso è fuggito dalla casa di cura. Dall'altra parte di spalla, ma dalla parte sinistra della prima pagina, vediamo Banca d'Italia, crescita lenta, ma in regione aumentano gli occupati. E poi il film Commission, l'Abruzzo è un grande set e per i registi, buon per noi e anche buon per i registi, c'è tanta scelta a livello evidentemente di location. In basso, mondiale femminile, che brave le azzurre del calcio, l'Italia batte 2-0 la Cina e vola ai quarti di finale sabato pomeriggio alle 15 contro l'Olanda. E poi questa notizia che riguarda la nostra regione perché Ibarra, Maximo Ibarra, un abruzzese al comando di Sky Italia del network satellitare. Cambiamo edizione, andiamo sull'edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto che apre con la notizia del bombarolo in fuga, caccia all'uomo. Di Santo è scappato dalla casa di cura, incendiò il tribunale. Vediamo che cosa cambia rispetto all'edizione di Pescara, ovviamente le cronache, a Vasto sotto accusa i farmaci per l'assassino, ovviamente si torna sull'omicidio nella casa di riposo di Vasto, ora si indaga sulle medicine per Vito Papa, l'ex finanziere che ha ucciso l'anziana Michela Marchesani mentre dormiva. Peraltro oggi ci sarà l'autopsia. A Lanciano bimbi in corteo per salvare Villa delle Rose, servizio che abbiamo proposto nel TG di ieri per lo sport, calcio e scontro tra Di Giovanni e Trevisan. È un momento travagliato soprattutto dal punto di vista societario per i colori nero-verdi con varie cordate che si stanno dando battaglia per acquisire la proprietà della squadra del Chieti Calcio. Sotto la fotonotizia, prof assenteista, sospeso per un anno, Chieti bufera fisioterapia, il docente universitario è accusato da 29 studenti che lo accusano appunto di essere un assenteista. Andiamo sull'edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona, sempre del centro, cambia ovviamente l'apertura, fisco in Abruzzo, 221 evasori totali. Il bilancio della Guardia di Finanza all'Aquila tra ricostruzione e appalti. In questa edizione cambia la foto centrale, un'opera d'arte alla memoria di Roberta e Carmelina, omaggio a due vittime peligne del terremoto. Siamo all'Aquila, l'aula consigliare ha ospitato ieri una cerimonia e ricordo di Roberta Zavarella e Carmelina Iovine, due studentesse universitarie, una di Sulmona, l'altra di Raiano, che persero la vita nel sisma del 2009 con la consegna da parte del comune di Sulmona a quello dell'Aquila di un'opera creata da un allievo del liceo artistico Peligno. Nelle cronache, sempre all'Aquila, operaio ucciso dai cani, donna patteggia 10 mesi. Ad Avezzano, di Bastiano, il T-Red torni in funzione, sempre ad Avezzano, in centro sarà riattivata l'isola pedonale. E poi sotto la foto, via da Sulmona, chi spaccia e sporca, il comune vara il daspo urbano, multe da 100 a 300 euro e allontanamento dalla città. Andiamo sull'edizione di Teramo del centro, l'apertura ovviamente è legata purtroppo al ragazzo disperso che non si trova, siamo a Giulianova, ricerche ancora vane in mare, il PM apre un'inchiesta sui ritardi evidentemente nei soccorsi e la foto riprende il titolo con le ricerche del ragazzino disperso a Giulianova. Questo è un gommone della Croce Rossa impegnato proprio nelle ricerche che peraltro, come avete visto, non stanno dando i frutti sperati. Nelle cronache d'Alba Adriatica, bruciava foglie, gravi ustione, anun, carabiniere. Università all'estero, Ateneo e Africa, sempre più collaborazioni. Dichiarazione di Teramo firmata durante la prima conferenza dei 29 rettori africani che si è tenuta all'Università di Teramo, apre nuove collaborazioni. Il commissariato Roseto perde la sfida con Atri, resta dove sotto la fotonotizia l'auto si sfrena, travolto un medico, Silvi cerca di fermare la vettura su una rampa ma viene ricoverato in prognosi riservata. Rimaniamo a Teramo e provincia con la prima pagina della città, Mazzini, ovviamente si parla di ospedale, il parcheggio raddoppia i posti, passeranno da 600 a 1000 ma a pagare saranno soprattutto gli abbonati, ovvero i dipendenti che ovviamente all'ospedale vanno tutti i giorni in alto. Il commissariato di polizia resta da Atri, battuta Roseto e poi la foto ovviamente dedicata alle ricerche senza esito, nessuna traccia del 15enne scomparso tra le onde, sentito ancora l'amico di Mohamed, incidente, allarme, ricerche. Ma quanto tempo è passato? Questo è il vero interrogativo. Parricidio a Silvi, l'avvocato del figlio omicida rinuncia al mandato. A Silvi un medico travolto dalla sua auto che si sfrena. Andiamo sulla prima pagina dell'inserto abruzzo del messaggero che apre con l'economia, che rallenta nella nostra regione il rapporto di Banca Italia. Nel 2018 il PIL è cresciuto soltanto dal 0,5%. A sorpresa è migliorata l'occupazione che ormai è tornata a livello pre-crisi. Andiamo in alto, sotto la testata, nomine Ibarra alla guida di Sky Italia, la famiglia è di Sulmona. Caramanico, Terme, piovono proteste, l'azienda riapriremo anche su questa vicenda di Caramanico. Nella seconda parte vedremo il servizio. Per lo sport, il calcio, Pescara, Brugman verso l'addio. Partito del casting per il sostituto, il Benevento in prima linea per acquistare l'uruguaiano. In attacco spunta il nome di Morra Provercelli. 12 gol nell'ultimo anno, anche se in questo momento vicinissimo Galano, che l'anno scorso era a Foggia, che dovrebbe arrivare in bianco-azzurro presto. La foto, Mohamed non si trova, il 14enne disperso in mare a Giulianova, nessuna traccia del ragazzino disperso in mare dopo essersi rovesciato con il canotto. Ancora cronaca, ragazza rapinata e stuprata, Maxi condanne agli africani la violenza in un capannone abbandonato. Quasi 19 anni di carcere. Il caso, aggressione gay. La coppia ha lasciato Pescara, due ragazzi brasiliani di 19-20 anni, aggrediti sabato notte da uno sconosciuto, mentre passeggiavano mano nella mano lungo via Umbria. Adesso la coppia ha lasciato Pescara senza aver denunciato il fatto. I fili della cabinovia, tagliati con le cesoie. La perizia ha confermato che i cavi elettrici della cabinovia e dei prati di Tivo sono stati tagliati, pensate, con una pinza o una tenaglia. In basso, Acchieti, Ateneo e Cus, ora e scontro. Queste le prime pagine dei quotidiani regionali. Adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani nazionali, ovviamente partendo dal Corriere della Sera. Liti e Veti, governo bloccato, Salvini vuole accelerare sull'autonomia differenziata, Di Maio invece attacca su autostrade senza esito il vertice. Nella notte si watch la Corte di Strasburgo, respinge il ricorso per lo sbarco. E poi la bella foto che riguarda le azzurre che battono la Cina. Il sogno mondiale continua all'Italia, si impone 2 a 0 e vuole quarti. Ora è tra le magnifiche 8. Milano Cortina, lavori nomi nei paletti sui giochi di Sala e Zaia. Ovviamente il giorno dopo l'assegnazione dei giochi invernali 2026, sia ben pesata la sindaco di Milano che Luca Zaia, governatore del Veneto, mettono i paletti sulle nomine e chi dovrà ovviamente fare dei lavori che partiranno al più presto. La Repubblica che apre con l'intervista al presidente della Camera, Roberto Fico, che dice ai Cinque Stelle, il suo stesso partito, cambiamo sarà troppo tardi, siamo diversi, vanno rivisti identità e valori. Il blog del Movimento non basta, serve un congresso per non finire calpestati. Difficile che la maggioranza vada avanti senza conte. Portiamo all'UE, all'Unione Europea, la battaglia per la verità su Giulio Regeni. Olimpiadi invernale, chi comanda? Sala, voglio i più bravi, no agli amici degli amici. La foto che riguarda il meteo mai così caldo dal 2003, l'Europa bolle a 40 gradi e qui c'è la cartina e vedete le zone ovviamente più rosso scuro sono quelle maggiormente interessate dall'onda anomala di calore che sta colpendo l'Europa in questi giorni, in Italia soprattutto Sardegna e Italia settentrionale. Il messaggero Palazzo Chigi frena l'autonomia al vertice, il dossier riservato dei tecnici boccia la riforma, così salirebbe la spesa pubblica. Salvini prende tempo, lavora in corso, autostrade, Movimento 5 Stelle vuole la revoca della concessione. In alto, efficienza negata, le sette piaghe di Roma, inchiesta sulla paralisi della burocrazia, quattro mesi per avere una carta d'identità, tre anni di attesa per l'ok alla pulizia dei tombini. Salvini libero le Olimpiadi leghiste, i Cinque Cerchi seppelliscono i Cinque Stelle, Grillini in tilt per l'assegnazione dei giochi a Milano e Cortina, Roma e Napoli in gara per la medaglia d'oro della Monnezza. Salvini spero che il Movimento impari la lezione, ma il Movimento 5 Stelle ha la testa dura, bloccheremo le autostrade, dicono. In basso, questi due hanno più presenze TV che elettori, il comunista Fratoianni e l'euro radicale della vedova. Il tempo, otto mesi per riparare due scale, riapre la stazione Metro di Repubblica, ovviamente siamo a Roma, nel centro di Roma peraltro, vicino alla stazione Termini, Termini era chiuso da ottobre per il guasto agli scalatori. Il sindaco Raggi, disagi per gli interventi straordinari, ma dovrebbe essere invece normale manutenzione. Le ragazze azzurre si mangiano, la Cina 2 a 0 per le nostre ragazze. E poi ovviamente si fa un po' un gioco di parole con il biscotto che ha eliminato l'Italia Under 21, è il biscotto della fortuna che di solito c'è in quasi tutti i ristoranti cinesi. Il diagonale di Giacinti è la frase al portiere, rivolta al portiere cinese, ovviamente. Il manifesto. Respingimento umanitario. La Corte di Strasburgo respinge il ricorso dei migranti per l'approdo a Lampedusa, ma invita l'Italia a prestare l'assistenza alle persone a bordo della Sea-Watch da due settimane. Possibile la forzatura del blocco e lo sbarco. E alla Camera il PD spaccato sull'accordo con la Libia. In alto il treno corre, i 5 Stelle di nuovo nel tunnel. Torino-Lione via libera ai bandi per il versante italiano. Il fatto quotidiano, i predatori dei miliardi perduti e c'è un Giovanni Malagoi in versione indiana Jones. Olimpiadi di 2026, chi paga e chi ci guadagna? Lo sport italiano è sempre in mano agli artefici di Italia 90, Torino 2006, Mondiali di Noto 2009. Sette miliardi buttati. In alto l'intervista a Nino Di Matteo, il PM antimafia, mi candido al CSM per farla finita con i gruppi di potere. E sullo scandalo CSM, il PM Ielo e Fava, la vera storia del duello in procura a Roma. La stampa, l'apertura ovviamente quotidiana di Torino, non può che essere dedicata alla TAV. Conte pronto al sì, Di Maio e spalle al muro, il capo del Movimento 5 Stelle, Olimpiadi. E alta velocità, abbiamo contro i partiti del cemento. E poi questa notizia. Salvini dà una mano alle discoteche. Alcol anche dopo le tre. Il richiamo della notte, scrive Flavia Perina. Nuove misure che consentono anche la vendita di alcolici dopo le tre di notte nelle discoteche, quando fino ad oggi era vietato tutto questo. La verità, stop ai rave party in università, ma non per merito del rettore. Lo scandalo della sapienza, i collettivi annullano gli eventi dopo gli attacchi della stampa. E qualcosa però preferiremmo che gli spettacoli illegali negli atenei fossero proibiti. E che la questura facesse rispettare i divieti. Su Panorama, l'ex PM e caro figlio, vi racconto quando menavo le mani. E poi chi comanderà davvero sulle Olimpiadi? Giorgetti sarà la di Zai e Fontana, non vogliono intrusi, sala pesca nella squadra che ha organizzato Expo. Il sole 24 ore, anche qui l'apertura è dedicata all'alta velocità. TAV, sia i bandi per i lavori d'Italia, al 55% saranno fondi europei. E poi, Frodiva, sanzioni che saranno anche alle imprese in arrivo responsabilità amministrativa prevista dal decreto 231 e poi la nuova Auditel dello streaming in testa, lo sport di Sky e di Canale 5. Al debutto un sistema per misurare gli spot su PC, smartphone e tablet, cosa importante soprattutto dal punto di vista degli inserzionisti. Avvenire oggi è la giornata contro la droga, droga più azione, nella giornata la conferma sul consumo, in calo i fondi per il recupero, tanti allarmi e parole, ma oggi è trattata soltanto una vittima su tre. Shock del clima, di questo passo 120 milioni di poveri in più. Il relatore speciale ONU Alston, il riscaldamento globale, rischia di vanificare 50 anni di lotta alla fame. Poi il caso Sea-Watch, altro no. Continua l'Odissea, Strasburgo respinge il ricorso, PD diviso sull'intesa con la Libia. Andiamo a dare un'occhiata anche ai quotidiani sportivi, partiamo da Gazzetta dello Sport, e chiaramente l'apertura non può che essere dedicata alle otto volanti. eccole qua, le ragazze italiane, le azzurre, incantano ancora ed entrano tra le prime otto squadre del mondo sabato alle 15. Ci giochiamo con l'Olanda, il passaggio a quella che sarebbe una storica semifinale, considerando che mai la nazionale femminile di calcio aveva vinto uno scontro da dentro o fuori ai mondiali. Mondiale femminile, Cina battuta, siamo ai quarti. E poi quest'altra notizia che ha del clamoroso Buffon, torna a casa. Che movimenti per i bianconeri, siamo in casa Juventus, chiesa ultimato, ma la viola via ora o va a scadenza? Il portiere però, quello che più interessa, è che dovrebbe riabbracciare la Juventus, che ha lasciato solo un anno fa per andare in Francia. Sul nuovo stadio, siamo a Milano, Sala non fa sconti, Inter e Milan, San Siro resterà fino al 2026. Milano-Cortina, super manager e decreto risorse, le prime mosse. Ma entriamo per vedere questa doppia bellissima pagina, almeno quanto le azzurre. Azzurre bellissime, l'Italia vola ai quarti, Giacinti e Gallia battono la Cina. Adesso ci aspetta l'Olanda, cinica e paziente, leggiamo, ma anche coraggiosa la squadra del CT. Bartolini ha giocato la partita che serviva. Tecnica superiore, straordinaria determinazione. E ovviamente dall'altra parte la gioia dell'attaccante Giacinti. Gioia doppia, che bello segnare davanti a mio nonno, capo cannoniere degli ultimi due tornei di Serie A. Finalmente si è sbloccata al Mondiale e dice, aspettavo tanto questo gol, la pensiamo così. Il commento di Carolina Morace, grande difesa e brava il CT a cambiare il modulo. Facciamo un salto in avanti nelle pagine interne, perché di Biagio invece per l'Under 21 se ne va. Il responsabile sono io, ma non è un fallimento. È stato il CT più longevo dai tempi di Maldini, con gli azzurrini per sei anni e cinquantasette gare. E adesso dice, sono sul mercato. Il nuovo CT, chi potrebbe essere? E vanio Nicolato, il successore, sarà un tecnico dei quadri federali. Vediamo un po' di mercato, perché c'è il braccio di ferro. Chiesa alla Viola dice, via subito oppure a fine contratto. E la Juve aspetta. La Fiorentina vuole tenere Federico, che però ha sempre in testa la cessione. Clamoroso ritorno. Buffon per un anno sarà il vice di Scesni tra i pali, probabilmente con un ruolo poi dirigenziale in futuro. Avanti tutta Inter-Lukaku verso lo sprint. Definito Sensi. Grazie a Gravillon, l'agente dell'attaccante Pastorello dello United, nulla è impossibile, il difensore ex Pescara va al Sassuolo in cambio del regista Stefano Sensi. Nuovo motore Conte, dall'altra parte basta Brozzo Dipendenza, con Barella esce il ninja Nainggolan. Andiamo avanti, perché c'è questa foto con la faccia del sindaco di Milano, Beppe Sala e San Siro, che per il primo cittadino meneghino non si tocca, il nuovo stadio avanza, ma Sala resiste. Entro dieci giorni lo studio di fattibilità di Milan e Inter, il sindaco nel 2026, il Meazza, sarà ancora in piedi. Andiamo avanti per vedere le pagine che riguardano la serie B e C. Eccole qua. Il Venezia ha scelto Dionisi, ex Imolese, il gentleman della tattica, misurato e cortese, pratica un calcio molto propositivo, a Varese ha aperto un centro per far giocare i bambini. Adesso si siede sulla panchina del Venezia, che con l'esclusione sempre più probabile del Palermo dovrebbe essere, dovrebbe tornare in serie B. La Virtus Verona, altra società che per qualche defiance dovrebbe tornare in serie C dopo la retrocessione, accende i motori. Maestrello è il primo asso per la C. Il terzo club di Verona sarà riammesso tra i professionisti. Fresco presidente e allenatore, che vediamo in foto, lavora sull'attaccante e prepara il ritorno di Odogvu. Dall'altra parte, in Cubo Palermo, verso la D. E come vedete il Venezia può tornare in serie B. Tutto lo mondo si difende, noi truffati dal broker. Tacopina attacca, violate le norme, vanno esclusi. In basso per il mercato, spunta Asenzio per Lascoli. La Cremonese va su Cavion, da Rastelli potrebbero arrivare anche Buonaiuto. e Barberis, Cavone al Frosinone, Morganella a Livorno e Dionisi, il nuovo tecnico del Venezia. Come abbiamo visto nell'altra pagina. Andiamo adesso sul Corriere dello Sport. Questa è l'apertura. Pogboom Juve, colpo di scena. Entra in campo anche lo sponsor. Chiesto l'intervento della multinazionale di cui Paul è testimonial. La trattativa decolla. Clamoroso torna anche Buffon. Sarebbero due ritorni di grandissimo spessore. In alto, incredibili ma vere. Splendide e così italiane. Le ragazze volano ai quarti, battuta 2-0 la Cina. Sabato la sfida all'Olanda. E poi il caso Palermo fuori dalla B, vittime di una truffa, dice tutto lo mondo. L'intervista a Malagò, presidente del CONI, il no di Roma, alle Olimpiadi estive. Fa ancora molto male. Ragazze da amare. Questa è l'apertura del Corriere dello Sport. La nazionale continua a vincere adesso. È la squadra da battere. La favola continua. Giacinti dice, io inzaghi? No, mi sento più morata. Bartoli dice, siamo forti. Il portiere Giuliani, chi sogna sa piangere. E poi andiamo avanti per il mercato. Ecco qua, Santa plus Valenza. 30 giugno è la data centrale. Prima si vende e poi si compra. La regola è la regola ormai del calcio industriale. Le logiche di gestione ruotano attorno a queste necessità. Ci sono ovviamente tutte le plusvalenze. Andiamo verso le pagine che riguardano Serie B e Serie C. Anche in questo caso. Eccolo qua. Palermo e Bufera. C'è una truffa. Il club fuori dalla B. Si prova il tutto per tutto per recuperare la posizione. La banca non ha ricevuto la richiesta di fideiussione. Lucchesi e tutto lo mondo. Ora la magistratura. Ma, come vediamo in basso, il Venezia. Verso la riammissione. È giusto. Il presidente Tacopina ha già lavoro per giocare ancora tra i cadetti. Dall'altra parte il popolo rosanero. Chiede rispetto. Salvatore. Tutto lo mondo ha cerchiato davanti al Barbera. E c'è chi sogna il rientro di Foschi. Tifosi del Palermo. Tra incredulità e rabbia. Il web inondato. Perché capita sempre a noi. E poi altri titoli. Empoli. C'è Stulaz. Crotone. Gabbia. Bucchi vuoi il regista del Parma. Rosso-blu sul centrale del Milan. Pisa Belli. E Pescara-Busellato sono due sì. E dunque sempre più vicino il colpo Busellato per il Pescara. Andiamo a leggere. Asse caldo con il Parma per il Pescara. C'è l'accordo per Cristian Galano. Il bomber di origine pugliese si trasferirà in prestito. In Abruzzo nell'operazione il club Ducale ha chiesto l'inserimento dei giovani. Andrea Marafini il difensore e Kirilov. Massimiliano Busellato piace tanto. Oltre a lui per la mediana c'è Filippo Bandinelli nell'ultima stagione con la maglia del Benevento. Nell'altra pagina foggia. Macerie e responsabilità. Come sette anni fa bisogna ripartire dai dilettanti. Dopo il crollo tra i tifosi dominano rassegnazione e amarezza. E intanto a Reggio Calabria, Regina Nasco alla tua ombra, la presentazione del neotecnico Mimmo Toscano. Questa è per quanto riguarda la squadra Granata. Chiudiamo la prima parte con il basso sempre in Serie C. Rende squadra a chilometro zero. Tecnico ai giocatori scovati nel territorio. La Ternana invece cerca il sito di Chiaretti, la Samba su Lunetta. Bene, ci fermiamo per questa prima parte. Adesso spazio alle previsioni del tempo, pubblicità. Poi rientriamo e sfogliamo i quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6. Come detto adesso, in questa seconda parte fino alle 9, sfoglieremo i giornali di casa nostra. Ricominciamo dunque dal centro, da pagina 10. Consiglio regionale, fondi per salvare il centro crua. Assemblea stanzia a 200 mila euro per garantire il funzionamento della struttura ed evitare eventuali licenziamenti. Arriva in avola l'incendio in clinica. Interrogazione del Movimento 5 Stelle Pettinari, dopo il rogo che hanno perso la vita due pazienti. A Pescara, arrestati i quattro minorenni, ragazzi in fuga con l'auto rubata. In seguimento da film sull'asse attrezzato. Cercano di rapinare un ragazzo dello scooter e poi rischiano di investire un pedone sulle strisce ai colli. Imboccano le vie contro mano, poi si dirigono a folle velocità verso Chieti, ma sbattono contro il guardrail. Queste sono le foto che raccontano di questa macchina rubata, poi distrutta, terminato così, questo pomeriggio incredibile. In basso siamo a Pescara, tabaccaia rapinata e picchiata a due banditi. A via San Marco, la donna cerca di trattenere la borsa e il malvivente la ferisce con un mitra giocattolo. Il comune, nuova giunta, scontro sugli assessori, vertice nella notte, masci lega, ancora niente accordo. Trattativa in bilico. A Forza Italia è stato richiesto il nome di un'altra donna. Oggi un nuovo incontro, intanto il sindaco si prepara a partire con una squadra a sei, se il carroccio minaccia a questo punto. L'appoggio esterno chiaramente non è facile, sono equilibri molto sottili. Vedremo come andrà a finire. Ancora cronaca, la sentenza, stupro sulla Tiburtina, ragazza violentata, 12 anni di carcere, condannato al tunisino che l'aggredì e picchiò il suo amico al complice. Erano stati inflitti sei anni in basso. Donati fegato e reni, oggi l'addio al 65enne, investito dal furgone in via Cavour, i funerali di Attiglio Tini. Terme, siamo a Caramanico, il caso Caramanico, sit in sotto la regione, proteste con gli striscioni, la società, riapriremo a luglio, la rabbia dei lavoratori dopo 5 mesi senza stipendio. Il gestore, non ho messo in ginocchio nessuno, febbo, la società ha 22 milioni di buco, riapertura entro il 15 luglio, il 10, nuovo incontro tra le parti e diventa anche scontro politico. Febbo, la colpa dell'aggiunta d'Alfonso, la replica di Polucci, noi abbiamo stanziato i fondi, voi investitele. Allora, per fare il punto della situazione, vediamo il servizio della nostra redazione e di Paolo Renzetti. Allora, lo vedremo più tardi magari il servizio, intanto cambiamo pagina, pagina 19, AFA e temperature elevate, domani giornata a rischio, il Dipartimento della Protezione Civile dall'allarme termometro entro i 30 gradi, gli esperti consigliano di bere molto e uscire di casa solo nelle ore più fresche. Cambiamo pagina, Montesilvano, la città si riempie di sportivi in migliaia da tutto il mondo, ricco il calendario fino a domenica dal Montesilvano Futsal Cup, con squadre provenienti da 14 paesi, al Mundial Beach Soccer, con semifinale e finale internazionali, e poi lo storico torneo Mastrangelo, una settimana veramente ricca di eventi, sempre a Montesilvano però si piange anche l'ex sindaco Fuschi che fu eletto due volte, avvocato e docente all'Università alla Sapienza di Roma, ha guidato la città dal 70 al 75 e dall'82 all'83. Auto con targhe false, imprenditore denunciato, parcheggiata in centro a Montesilvano. Andiamo avanti a Francavilla, mancato ripascimento della costa, rischio gli ombrelloni più arriva a Padovano, bisognava trasportare i 10.000 metri cubi di sabbia stoccati nel porto di Pescara, se ci fosse stato questo intervento. Oggi avremo 7-8 metri di spiaggia in più, speriamo, nei pennelli. A Francavilla parcheggi a pagamento da domani, quest'anno la sosta si può pagare anche con il proprio smartphone. A Popoli tutti sanno le cose, ecco che cosa si dicevano gli arrestati, l'inchiesta, gli assalti nelle aziende, i dialoghi al telefono tra i sette indagati, dei furti messi a segno nelle ditte della Val Pescara, commentano l'incidente in auto dopo il colpo alla Edilcema e le voci che circolano in paese. A Chieti, Strever eletto presidente in campo per le imprese, l'imprenditore di San Salvo scelto all'unanimità, e il primo Chietino al vertice, l'uomo delle larghe intese, prima del voto, fa cambiare idea a Miccoli e Grilli. E questa è la prima foto da neopresidente di Gennaro Strever che andiamo probabilmente a sentire nel servizio. Gennaro Strever, nato a San Salvo il 14 ottobre del 1948, all'unanimità è il nuovo presidente della Camera di Commercio di Chieti Pescara. Sul bentra, al presidente vicario Lido Legnini, chiamato a sostituire il dimissionario Mauro Angelucci. Diplomato presso l'istituto professionale di Stato a San Salvo nel 1975, Strever al fine di incrementare la sua attività costituisce la SM Sud SNC con la quale inizia a realizzare come impresa impianti di distribuzione di gas metano, acquedotti ed edilizia industriale. Nel 1980 ha costituito la metanizzazione meridionale SRL che alla fine degli anni 90 aveva acquisito e realizzato il pubblico servizio di distribuzione di gas metano in ben 42 comuni delle province di Chieti, Campobasso e di Sernia. Nel 2002 ha costituito la Metamer SRL, società attiva nel mercato elettrico e di gas. Nel 2001, in accordo con altri partner, ha costituito Abruzzo Energia SPA dove ha ricoperto prima la carica di amministratore delegato e poi la carica di presidente. Inoltre Strever ha ricoperto la carica di presidente della Cassa Edile della provincia di Chieti, di presidente della sezione costruttore Edili, Ance della provincia di Chieti, presidente regionale del Lancio Abruzzo. Un pochino sì, non ho mai gestito una cosa pubblica, tante aziende, tante società, ma mai una cosa pubblica. Ma ci metto lo stesso impegno che ho messo alle mie aziende. Probabilmente non siamo stati capaci a reclamizzare nella maniera giusta il nostro territorio, che è meraviglioso. Cercheremo, nei limiti di quello che la Camera riesce a fare, a mettere in modo un volano anche per questo. Intanto rendere la Camera di Commercio Chieti Pescara unico strumento di lavoro, togliendo divisioni, risistemando le cose per creare un vero volano col personale, con tutto. Dobbiamo cercare di dare quelle idee e tutte quelle attività che possiamo fare affinché rendiamo il nostro territorio più attrattivo a livello turistico, a livello imprenditoriale, a livello industriale, a livello agricolo, che abbiamo delle eccellenze. Tutto ciò che si può fare in accordo con tutto l'intero Consiglio lo faremo. Andiamo avanti, pagina 27, caccia all'uomo, ricerche in tutta Italia. Bombarolo in fuga incendiò il tribunale Roberto Di Santo, 64 anni, Rocca Montepiano è scappato dalla casa di cura di Rosello, dove era in libertà vigilata. E poi a centropagina, sospeso per un anno, il docente assenteista, il presidente del corso di laurea di fisioterapia, accusato da 29 studenti di gravi irregolarità. L'omicidio nella casa di riposo, inchiesta a Vasto sotto accusa ai farmaci dell'assassino. Vito Papa resta sotto osservazione nel reparto di psichiatria di Lanciano. Si indaga sulle medicine e su eventuali effetti collaterali. Sempre a Vasto truffa da 5 mila euro alla banca, apre il conto con un documento falso per intascare un assegno. A Teramo il dramma di Giulianova, un'intensa giornata di ricerche, ma Mohamed non si trova nessuna traccia del 14enne disperso in mare dopo che il materassino si è ribaltato per le onde. Scatta l'inchiesta per accertare eventuali ritardi nella segnalazione e acquisiti anche i video della zona. Silvi, l'anziano annegato resta senza identità, l'uomo non è stato ancora identificato. E poi per la cabinovia, dal mare passiamo alla montagna, il risponso dei RIS, cavi tagliati con delle cesoie, ovviamente l'inchiesta sul danneggiamento alla cabinovia di Prati di Tivo. Siamo a Silvi, si sfrena la sua stessa auto e viene travolto. Il medico in pensione cerca di fermare la vettura sulla rampa del garage, soccorso in elicottero, è in prognosi riservata. Altra cronaca, ma siamo ad Alba Adriatica, si ostiona il giardino, grave un carabiniere. Il carabiniere è di Roma, è successo però il fatto ad Alba Adriatica, stava bruciando fogliame nella sua casa al mare, è stato trasportato al Sant'Eugenio. Il commissariato non si muove da Atri, il Ministero invita a proseguire nella realizzazione della nuova sede che dovrebbe essere pronta entro giugno 2020. In alto ancora a Silvi l'omicidio nuovo legale per la difesa dell'architetto. All'Aquila scoperti in Abruzzo, 221 evasori totali, questo è il bilancio della finanza, c'è stata la festa del corpo, il comandante regionale Agnello, la ricostruzione porta con sé illiceità e reati contro la pubblica amministrazione. La memoria, il terremoto 2009, un'opera d'arte per Roberta e Carmelina, due studentesse di Sulmona e Raiano, vittime del sisma, onorate in comune. A centropagina, operaio sbranato dai cani, donna, patteggia, dieci mesi. Qui siamo allo sport e allora, poi leggeremo lo sport insieme, andiamo sul messaggero, la ripresa difficile, Banca d'Italia, l'economia va avanti ma troppo piano, il PIL della regione è cresciuto dello 0,8%, a sorpresa tiene l'occupazione che è tornata a livello pre-crisi. A Pescara, questa è la pagina, condannate le belve del capannone, 12 anni e 9 mesi al nord africano accusato dello stupro di una ragazza nel covo dei tossicodipendenti sulla Tiburtina, 6 anni con il rito abbreviato al connazionale, complice della violenza e della rapina alla donna e al suo fidanzato. Gay aggrediti, condato omofoba, l'identikit del sospettato. Per la politica, Forza Italia e Udc cedono sulle donne, a vuoto la nuova riunione per la Giunta, a lega tentata dall'appoggio esterno. E poi, come abbiamo visto, Strever convince tutti, vota all'unanimità per la Camera di Commercio, il Chieti Pescara. Le terme riaprono. Caramanico respira a revoca della liquidità, revoca della liquidazione e regolarità contributiva le condizioni della regione. Per quanto riguarda Montesilvano, invece, l'addio è morto Leo Fuschi, il politico colto, sindaco a Montesilvano, in due stagioni. Anche qui, la baby gang che semina il panico, minorenni in fuga con un'auto rubata. All'Aquila, città del cuore, sempre più forte, tre defibrillatori nei tribunali, dispositivo salva vita, donato ieri dai familiari di Giuseppe Ioannucci, posizionato nella sede per i minori. Si tratta dell'undicesimo nel capoluogo. La Guardia di Finanza, l'evasione sopra la media nazionale. Questa è l'analisi che fanno le fiamme gialle. Sempre all'Aquila, rinasce Piazza Margherita. Il vice sindaco Daniele rilancia il progetto di Iemonnanzi. È bello e costa poco. La riqualificazione partirà entro l'anno. Previste due aiole laterali. Per scoprire la fontana del Tritone, saranno mantenuti gli alberi, mentre la cannella sarà spostata. E poi, questa bella notizia, perché il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inaugurerà l'anno scolastico. in basso, la cerimonia, Luca Diacono, Folla commossa e poi un'opera per Roberta e per Carmelina. Cambiamo pagina con questa bella notizia. Sky Italia al vertice il sulmonese Ibarra. Il top manager assumerà le funzioni di CEO dal primo ottobre per lo sviluppo dei servizi streaming e di quelli della telefonia. Sempre è stato legato all'Abruzzo e al capoluogo Peligno, dove vivono la madre Marisa Ricci e la sorella Francesca Adavezzano. Piazza Risorgimento, finiti i lavori, ora è polemiche per il caso. Panchine, Acchieti. La trattativa col CUS non parte. L'Ateneo ci deve 5 milioni. Intanto il vertice del CUSI ha comunicato la decadenza di federato dell'ente Teatino. Confermata la nota Xarea fino a 15 mila euro. Esonero per le matricole con il massimo dei voti. Di spalla, caos in comune, incontro al Marruccino. Di ingiullo c'è la disponibilità. A Lanciano, scandalo Lenzuola, rientra Colasante. Chiusa l'inchiesta per l'imprenditore Frentano in ambito dell'ASL. A giudizio oggi ci sono già Flacco, Spadaccini, Spadano e Pantaleone. Ieri mattina si è aperto pure il processo per truffa alla Honda. a 7 imputati con 50 testi e rischio prescrizione. A giugno 2020. A Teramo, barriere. Lo stop del comune, scuole e uffici siano accessibili. Il sindaco d'Alberto incontra istituzioni e associazioni. Assemblea pubblica a luglio. Niente indulgenza per la sosta selvaggia sugli scivoli e nei posti riservati ai disabili. Di spalla, la notte dell'omicidio urlava solo Giovanni. I vicini di casa dei carabinieri, ovviamente parliamo dell'omicidio di Silvi. Vicini di casa, dai carabinieri abbiamo sentito solo lui gridare. La moglie non aveva ecchimosi. In basso, prati di tivo, tranciati con le tenaglie, i cavi della cabinovia. Poi, ragazzino disperso, sono stati sentiti i bagnini. Deposizione fino a tardanotte, ovviamente siamo a Giulianovo. La guardia costiera vuole capire come mai nessuno dalle torrette ha notato i due giovani in difficoltà. Ascoltato il 14enne sopravvissuto che ha gettato pantaloncini e mutande in un cestino, è stato tutto ripreso dalle telecamere. A centropagina, pronta l'aggiunta di Ivan Costantini, vice-sindaco donna e spazio ai tecnici. Vice-sindaco sarà nella foto, come vedete, Lidia Albani. Oggi sarà ufficializzata la squadra per assegnare le deleghe agli assessori e poi il primo consiglio. A Tortoreto contestate 600 multe in tre mesi, rivolta contro il semaforo Reden Speed. E poi, qui siamo allo sport, allora rimaniamo, prima di arrivarci in provincia di Teramo, con la città, via ai lavori. Siamo all'ospedale Mazzini per raddoppiare il parcheggio. Intervento di completamento sarà pagato dagli utenti, non dalla sosta oraria, ma dagli abbonamenti. Primo incontro all'ipogeo per definire il PEBA, misure a favore dei disabili per eliminare le barriere architettoniche che sono attese da più di 30 anni. E poi, Piazza Garibaldi, l'atterraggio di Goldrake piace alla galassia nerd. L'idea è lanciata da Teramo Comics, che vedete nella foto, che riassume molto molto bene, dal fumettista Carmine Giandomenico, riscuote successo su internet. L'altra pagina, ricostruzione, l'imbuto è negli uffici ATER, il Movimento 5 Stelle sprona l'ente case popolari a velocizzare la progettazione della ricostruzione leggera. In provincia, stanziati 350 mila euro per gli sfalci stradali, da questa mattina riavra la provinciale panoramica di Tortoreto, con limite di velocità e di peso. Ad Albadriatica, bottiglia d'alcol e gli esplode tra le mani. 51 anni, ricoverato con gravi ostioni, al Sant'Eugenio, a Roma. L'uomo è stato trasportato in eleambulanza con gravi ostioni sul 40% del corpo. A Tortoreto, la notterosa conquista grandi e bambini, grande successo per la manifestazione, che ha animato il lungomare dell'Ido, tra giochi, attività e tante attrazioni. E adesso andiamo sulla vicenda del ragazzo disperso. Ascoltato ancora l'amico di Mohamed, la guardia costiera cerca di fare luce sul tempo passato tra l'incidente, l'allarme e l'avvio delle ricerche. Perché probabilmente è lì che si può capire qualcosa di più. A Giulianova, intanto, sabato, il consiglio con la nomina della nuova giunta di Costantini. a Silvi, investito dalla sua auto che si sfrena, noto medico di 76 anni, travolto dalla macchina, parcheggiata sulla rampa del garage, è gravissimo. L'uomo ha riportato traumi gravissimi al torace e all'addome con probabili lesioni interne. Siamo a Roseto, dove c'è l'ultimatum di Borgatti sul Borsacchio, il presidente delle guide minaccia le dimissioni, il comune corre ai ripari. E il commissariato che resta ad Atri, esulta la città ducale, bufera a Roseto, il ministero dell'interno boccia la proposta di Girolamo e invita Ferretti a proseguire i lavori per la nuova sede. Andiamo adesso allo sport, ovviamente partiamo con il Pescara, che pensa, e torniamo sul centro ovviamente, pensa Iemmello, vertice con il Benevento, contatto tra i due club per definire la cessione di Brugman ai Sanniti e il prestito del Bomber al Delfino, chiesto Melchiori al Perugia, gli Umbri però il Perugia vuole un milione di euro. Palermo senza fideiussione, rischia l'esclusione dal torneo, il Venezia vuole il ripescaggio. E poi in basso il personaggio, Nicola Le Grottaglie, nuovo, lo sapete, allenatore del Pescara Primavera, lo scrittore delle Grottaglie con la fede in Dio. Il nuovo allenatore del Pescara Primavera fa parte degli atleti di Cristo ed è pronto al debutto. Cambiamo pagina, perché andiamo in casa Teramo, Teramo-Cosenza, il nodo e l'ingaggio e il centravanti, l'esterno d'attacco K, prolunga. Biancorossi voglia il difensore del Lecce, ma lo stipendio è l'ostacolo più difficile. Si insiste per l'esterno Martignago, mentre Andrea Camplone si dirige a rapidi passi verso, come vedete, la panchina del Catania. Serie C, girore C. Serie D, invece, Chieti salta la trattativa tra Trevisan e Di Giovanni, il patron nero-verde e tuono, offerta inadeguata, ora basta, iscrizione a rischio, si tirano fuori anche Serpellini e Marchesani. De Angelis notaresco e divorzio, la pallavolo, l'abruzzo femminile, tra le prime otto. Le ragazze dell'Under 15 battono il Friuli, l'Under 16 maschile, vince con i paragoni di casa e perde con l'Umbria. Cambiamo quotidiano, andiamo sul messaggero, Pescara e caccia al dopo Brugman. Il benevento in prima fila per il capitano, appena iniziato il casting per la sostituzione, per l'attacco spunta il nome di Morra della Provercelli, che ha segnato 12 gol nell'ultima stagione. Iscrizioni, Palermo e Foggia, che brutta fine, come leggiamo, avrebbe potuto essere addirittura in Serie A e il Palermo è invece fuori anche dalla Serie B e questa volta potrebbe restarci perché l'iscrizione non è avvenuta nei tempi dovuti. Per il Futsal, Portieri Campo a scuola da Mammarella e poi per il Mercato, Tombesi e Civitella muovono i primi passi. Andiamo in Serie C, Teramo, fari puntati su Ilari e Martignago. Venerdì o lunedì si potrebbe arrivare all'accordo con la Mezzala e il Trequartista. Per lui sarebbe un ritorno, per Ilari sarebbe un ritorno col Diavolo dopo la passata stagione alla San Benedettese. Intanto in eccellenza Lanciano, colpo grosso, presa la punta. Gragnoli di spalla. Amatori, serata da sogno, ma ora si pensa al futuro. Tantissimi spiaggia per la festa con amici, atleti, tifosi e familiari per la promozione. Lo sapete, parliamo di basket in Serie A2. Sherrod, sempre in Serie A2, lascia Roseto. Il Napoli, ora lo aspetta. aspetta. In basso, Casofanti, i tifosi dell'Avezzano, fuori i mercanti. Lo sapete, il portiere Federico Fanti, avezzanese, doc, non farà più parte dei piani biancoverdi. La tifoseria, biancoverde, non l'ha presa bene, questa decisione. In Serie C, torniamo sulla città, perché Tomei e Soprano sono ufficiali, Ilaria a un passo, complicate le piste che portano a Bacca e Cosenza. Il diavolo prova l'affondo per Martignago, Marco Soprano e Matteo Tomei. Matteo Tomei ha firmato un contratto annuale, mentre Marco Soprano ha firmato un triennale. Bene, questa era l'ultima notizia per questa mattina. Io vi ricordo la prima edizione del nostro TG alle ore 14, le altre alle ore 19 e alle ore 23. mattino 6 torna come di consueto domani mattina alle 8 puntuali per una nuova edizione e per leggere i giornali di domani. È tutto, buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.